Non vogliono andare via gli ucraini ospitati da più di sei mesi in un hotel di Alba Adriatica. Sono giorni difficili per le donne e soprattutto per i tanti bambini presenti che nel comune costiero hanno trovato una grande e calorosa accoglienza. Sono destinati ad alloggi in provincia di Caserta, ma molti ospiti non hanno ancora voluto firmare l'autorizzazione al trasferimento. Non vogliamo andare via perché qui in alberga Tassoni siamo tanto bene, l'ospitalità perfetta, il cibo perfetto, tutto molto buono. Però a Caserta dicono che non c'è quelle condizioni giuste, qui c'è tanti bambini piccoli, c'è mamme con due o tre bambini piccoli. Ci sono i bambini che vanno a scuola, ovviamente non vogliono lasciare la loro classe. Sì, tanti bambini vanno a scuola, stanno imparando l'italiano e fanno già successo, hanno fatto amicizia qui e adesso non sanno anche se c'è scuola là in quella piccola paesetta o non c'è e per questo sono anche tanto preoccupati. Gli ucraini e dal Badiratica devono firmare entro oggi il documento di trasferimento per poi fare i bagagli e domani verranno caricati e accompagnati in campagna, dove non vogliono però assolutamente andare. Adesso noi tanto tempo stiamo qua, ha fatto conoscere persone, ha trovato amici, anche questo posto, noi quando andiamo in treno, torniamo come a casa, sentiamo cosa noi qua tranquilli, cosa ce l'abbiamo, posto dove possiamo essere tranquilli, senza bomba, senza cattive persone, perché tutti vogliono noi bene qua. Anche i nostri bambini, noi non possiamo dire cosa, bambino non può andare più in scuola con bambini italiani, capito? E per questo questo è un grandissimo problema, noi non dormiamo più. La possibilità di restare nelle strutture turistiche abruzzesi è terminata per gli effetti di un decreto ministeriale, tra gli ultimi lasciti del governo Draghi. Forse fra due mesi, fino a guerra, noi partiamo a casa, però ci laviamo ancora tempo a essere tranquilli, a non ancora valigie, a ancora partire, a ancora non sapere dove noi siamo, ancora bambini sempre stressati, non è possibile fare così con persone, ti prego.